Aspetta, vai zia, vai! Beato che costruisce la pace, iniziano da lui stesso, dalla propria famiglia e dalla comunità in cui vive. Beato che ama la pace e la fa diventare il suo sogno di vita. Beato che non si accontenta di parlare di pace, ma ne compie le opere. Beato che diventa costruttore di pace perché è risorto il Signore. Una colonna che per sognare un futuro migliore, che porti con sé tanta pace e amore. Brava! Un applauso! Simone? Nell'uovo di Pasqua è uscito un pulcino con il gesso arancino, col berco turchino. Ha detto vado, mi metto in viaggio, porta tutti un gran messaggio. e volteggiando di qua e di là, attraverso Europa, paesi e città, ha scritto si muro e abbasso la guerra. Abbasso? La guerra! Bravo! Bravo! Non ti ho bisogno per la dicevra. Flavia? Poco poco, allora dici buona Pasqua a tutti. Zia è la stessa. Buona Pasqua! Flavia, dai, lo sai. Dici Samuel. Samuel, dillo tu. Samuel, tu la sai la poesia? Sì! E vuoi dire buona Pasqua insieme a Flavia? Tu e Flavia dite insieme. Buona Pasqua! Flavia, l'ha detto Simone, insieme a Samuel devo dire. Io faccio uno, due, tre, via e dite buona Pasqua. Uno, due, tre, via! Buona Pasqua! Pasqua! Buona Pasqua!